Nel giorno dell'Epifania, sul binario 1 della stazione centrale di Caltanissetta, arriverà in treno la Befana, che porterà Doni e i bambini che si troveranno lì davanti. Partirà dalla stazione di Xirbi e arriverà in stazione per le ore 11. Iniziativa promossa dal presidente del dopolavoro ferroviario, Michele Calabrese. Questa manifestazione si è dovuta fermare negli anni passati per motivo Covid, ma visto il rallentamento abbiamo pensato di ricominciarlo a fare, questa Befana che arriva col treno. Sentendo parlare persone adulte che hanno avuto in passato questa esperienza, li vedo parlare con molta emozione ricordando i periodi della loro infanzia e noi questa manifestazione la dobbiamo ripetere fino in fondo. La Befana, il 6 gennaio, arriverà sul primo binario da Sirbi e porterà la Befana, che recherà sacchetti di caramelle per i bambini. Dopodiché si entrà nella sala del dopolavoro centrale, dove la Befana consegnerà i doni che precedentemente i genitori hanno consegnato al dopolavoro stesso. E' un augurio questo qua, perché manifestazioni come queste devono sempre ripetersi, perché non si dimenticano, non si dimenticano mai.